Benvenuti a Spingiro Allora Intanto se qualcuno inizia ad entrare ditemi se si sente tutto a posto Buonasera Poison Lei è sempre il primo Lei è sempre il primo Ditemi se si sente meglio Ok si sente Sai che di solito dice che non si sente Sente? Ok Link messo anche qui Ora si vediamo durante il gioco come sarà Ok perfetto Però si sblocca spesso Non lo so perché Non so perché Vabbè comunque io inizio ad avviare perché qui c'è la host che mi sta un tantinello assordando Ok No ok adesso va bene Perfetto Perfettissimo Solite tre ore di caricamento Comunque sono usciti altri aggiornamenti Comunque stanno uscendo quasi giornalmente Perché comunque vedo che la playstation scarica Quindi Il che mi fa ben sperare Intanto Abbiamo iniziato le live che era la versione 1.0 Adesso siamo alla 1.3.7 Quindi Va bene così Molto orwelliana questa frase Happy is the country with no past Auguri poison Quanti anni compi Buon sette Settimo compleanno Buon sette compleanno Io ho letto tutti i libri di offwell Ma quanto è vera sta frase Oh ce l'abbiamo fatta Ok Allora Devo mangiare Bere e dormire Quindi Subito Subito No Salute Mangiamoci la mela Ok Un po' di whisky Ok E per il sonno poi ci lavoriamo Ah ma è notte Fermi tutti Non mi preoccupi Solo tenendo un po' di sentita Io col cavolo che Che mi faccio arrestare Voglio E come si faceva A far scorrere il tempo Quando si è seduti Io mi siedo Come Mi ricordo Mi ricordo che ci stava L'impostazione Per aspettare Intanto Angelo Non avevi interrotto In quella festa satanica Eh Sì Però avevamo finito La missione Probabilmente Visto che avevamo finito Lì dentro Ci ha cacciato In automatico Fuori Dobbiamo cercare Assolutamente Un posto Dove Ricaricarci di gioia Ecco appunto Se incontriamo qualcuno Per sbaglio Siamo Siamo nella cacca Chi o cosa Mi ha Ma Dio caro Col ponte Dio caro Cosa direi? Assolutamente si senti un po' culpito di Dr. F. Non lo so? Bobby Hickenbotham sta margando mia sorella. E ti ringrazio di non farlo perverti aspersioni a la sua reputazione. Mi sono chiesto da il generale per chiedere del comitato del comitato di beautificazione. Hai c'è? Certo. Ok. 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 Ok... Ok. Si, mi sento benissimo. Ma quanto fari di questa cosa che prima mi ha parlato tranquillissimamente adesso mi vuole molto? Ok quindi ci sono anche... anche i zombie. Sto cercando di capire se possa essere tedesco. Non voglio morire però aspettate. Non ho... non ho cure. Chi... Farmaci. Ah ho due pillole di gioia, attenzione. Ma sembra davvero molto bene. Guarda, non voglio essere qui. Ok devo... devo sperare che queste persone abbiano delle cure. No? Cremaldello... Dio che casino che fa l'audio. Mi sta assorbando. Vediamo se posso... farlo. Balsamo? Si. Ok. Dio che ansia. Ok. No, credo che sia la lingua incomprensibile di cui parlava il tizio. Si, si, si. Però... sai com'è? Visto che c'era tutta quella storia con i tedeschi, no? Magari era... Poteva essere un riferimento. Però si, effettivamente non lo è. Quindi la gioia si può anche trasportare, ok? Buono a sapersi. Comunque il bastoncino... No. Il... Che stavo dicendo è che... Ah si, il... Il bastone elettrico è davvero fatto bene. Cioè è molto forte. Dio... Salve! What the fuck are you doing here? Oh, leave us alone! Why won't you leave us alone? She's going to fucking kill us if we keep fucking up! Don't worry, Roger. I'm going to fix it, because that's what I do, apparently. I'm fucked. We're both fucked. The professor's gonna kill us. She's gonna tell them to send us away. I'm always mucking things up for her. Roger's worse. He breaks everything. The professor's gonna send us both away. Can you get us a new vow? I'd let you use the professor's lab. Oh, it's brilliant. Dr. Faraday's a woman. It never even occurred to me he'd be a woman. And she has houseboys. No, 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 no. Aspetta, fermi a tutti. Non voglio, non voglio sedermi. Voglio i fiorellini magici. Oh, era tanto facile. Stava qui la valvula. Genio sto tizio. Tieni. Certo, spero che ti piace questo tipo di cosa. Oh, brillante! Spero che questo sia perfetto! Grazie! Tu hai salvato noi. Guarda, vai in. Il lab è brillante. Roger will give you a hug. Certo, magari il professor potrebbe aiutarti, anche. Posso entrare? Chiuso a chiave. Ciao. Allora. Invertivo la reta. Eh, no, no. Usa banco di lavoro. Io mi faccio altri balsami perché sono abbastanza indispensabili. Ok. Antisettico. Sing and bring me on for me to eat. Io intanto frugo robe. Ok. Potrei sempre trovare qualcosa di utile. You take your joy immediately. Cos? Non ho capito. Io vado avanti. Ah. Ah. Ahio. There you are! Cerca il laboratorio. Penna, carota, borraccia. Ok. 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 Che sia qui. Ah. Aiuto. Cos'è? Io apro. E' una maschera. Che bello che sto le maschere. Oh. E' una maschera. No. Do you always know what each, do you always know what each word means when it comes out? Impedimenta, the baggage, impedimentorum, of the baggage, and impedimentis, to the baggage. So it doesn't matter what all you say things? Yes. So long as you're talking about baggage. What? No, Arthur, I'm talking about... Oh, fuck off. Why are you learning Latin anyway? You still have trouble with English. I can see it in my head. You make the words by sticking endings on them. Well, that seems like an awful lot of effort. When you learn German, when you learn German, when you... I don't want to learn German! You just have to stick the right ending onto the word. I don't want to learn German! It's a very good language. It has very strict rules. Imagine my surprise. Okay. It's very interesting, this flashback. Chiede Grimaldella. Allora, saliamo prima se vediamo che c'è su. Basta! Okay, devo prendere la mia Joy. Okay, okay. Prendiamo la Joy, se proprio lo vuoi. Dov'è che stavo? Ah, ma se tipo mi cambio di vestiti. Okay. Perché stavo ancora con quelli... Quelli un po' ose. Mettiamola così. Eccola. Snugga's a bug on a drug. Oh, hello. You're not James and Roger. Did the executive committee send you? No, no, I, uh... These chaps, they're trying to open the bridge to St George. What a coincidence. I can't open my own door either. What, what do you mean? You're locked in. What did you do? I told the executive committee I wasn't going to make any more spankers. Or gates. Or cover locks. Or keepers. Or jubilators. Those are all my designs, you know. They can do that. And no, I don't work for them. Ah, then you're rather brilliant to have got in, aren't you? Please, will you let me out? Cioè, talmente geniale che non riesce a liberarsi da sola. No, I don't suppose you see a large red button on that side that says open the cage. There is a button, but it doesn't say that. Oh, I was afraid of that. They don't trust those boys out there. I can't say I blame them. I can't trust them not to set themselves on fire. All right. Maybe you can still help me. I was sort of hoping you could tell me how to fix the bridge to St George. I can. But not till I get out of here. So, I'll need a few things from you. Fair enough? Uh, okay. Brilliant! I need a bucket full of multilene. According to the pressure control grid, there's air in the pipes here. That usually means a leaf. Here, take this vacuum. You can keep it afterwards. I don't plan to be anywhere near here. Okay. Prendiamo il raccoglitore. Prendi un secchio di mutilene. Qualsiasi cosa sia il mutilene. Oh, aspetta. Maschera antigasso. Interessante. Io lo apro. Ah, okay. È uno shortcut. È chiaro. Devo andare fuori, quindi. Sì, ok. Oh no. Cosa... Perché c'è il corpo? Non c'è la vita. Wow Wow Sleep Sleep Dream Ok Lasciatemi stare Che noiosi siete Ok aiuto Ma mi sono preparato per questo momento Sapendo che prima o poi sarebbe Accaduto Sarebbe arrivato Noi Leave a me friend alone Wow 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 Ok Pfff Pensavo che avevo usato 100 metri Adesso Sì 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 adesso riempio la borraccia un attimino E facciamo tutto quanto Glimaldello Vuoto vuoto Ah devo scassinarlo Guarda le bobbie È una lucha Cosa È una lucha È una lucha Che è sulla spiela È una lucha È una lucha Allora Ah ecco chi è che parlava Perché sta lì Buggato male Vabbè Allora facciamo Una cosa che penso sia intelligente Cioè ho trovato una maschera antiglass Mettiamola Allora Questo sì che è un papero strano Così strano che tutti Presteranno attenzione per alcuni momenti Ah ok Tipo una Una granata per distrarre le persone Dov'è la Eccola qui Maschera antiglass Purifica i gas nocivi finché il filtro non si consuma Ok E noi ce la mettiamo Perché penso che questa sia nebbia tossica No 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 aspetta Aspetta Io non ho vestiti No Lasciatemi stare Perché ce l'hanno tutti con me No 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 aspetta Non mi hanno visto Se cerchi Motilene su Google Ti esce We happy food Secondo la week È carburante Perché serve a funzionare tutto Ok Grazie mille per l'informazione Adesso aspetto che le persone se ne vadano Sì 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 Ok Credo sia questa la casa dove devo andare Ok forse non dovevo togliermela Ripara il tubo Ok non dovevo togliermela Non ditemi che ho finito le cure Dio mio che noia Che noia Devo trovare le erbe No qua muoio Poi devo rifare tutto Che pizza che è sta cosa Posso farlo già magari No Figurati Benda Aiuta a tenere il sangue che stia dentro il tuo corpo No Terma il sanguinamento No Hai mangiato qualcosa di disgusto No A me serve Solo il balsamo Solo il balsamo Utile No no Lasciami stare Lasciami in pace Un bel Non Grazie a tutti. Mi faccio un altro abito strappato così posso cambiarlo. Tanto sto morendo. Abito strappato, ok. Addio, mondecrudele, sono morto perché il gioco è bilanciato male, non per colpa mia. Può essere worse, credo. Addio. Quando è così non c'è modo di guarire. C'era del gas velenoso però non era chiaro che ci fosse del gas in quella casa, se no mi sarei rimesso subito la maschera. Cioè l'avete visto tutti che io c'ero andato per previdente con la maschera. Poi ho detto un fammi provare. Sentivo dei versi ma non capivo che ero io perché non era apparso nessun segnale che indicasse che stavo soffrendo. a parte i rumori. Il che è sbagliato perché nel momento in cui tu mi metti un simbolo per ogni cosa e non mi metti un simbolo perché sto soffocando è un po' stupida come idea. No, tu che dici? Abituai male il giocatore. O tu non mi dici niente e stiamo d'accordo o tu mi dici tutto. Non puoi fare qualcosa di qualcosa, no, mi confondi. Allora, questo è quello che mi sento. Ok. Ah, ma qua è il ripieno di gente di nuovo. Io. Ci mettiamo una maschera. Ci mettiamo gli abiti quelli tutti rotti che adesso mi devo rifare. Abito strappato. Vedi, qui si vede il gas che che può farmi del mare. Qui no. Cos'è questo? Danger. Ok, indosso la tua maschera. Ok. Quindi ho avuto una buona intuizione lì. Questa di riparazione. Zucchero. Ok, andiamo al piano di su. Candeggina. Why not? Il sto plasma. Ma però, dico, ma per due. Mamma, quanto farebbe ridere se mi mettessi a dormire qui? Polvere da sparo, luce. Andiamo ancora su. Mantieni, riempi il zecchio. Handy, little sucker. Ho avuto alcune cellule di potenza quindi potrei riempirli anche. Ok. 45 giri. E andiamocene da questo posto immediatamente. No, non. Do you know the general, Sally? That's fantastic. I will gratefully accept your kind offer and not mention any awkwardness that happened 14 years ago. That would have saved a bit of fuss. I hope Dr. Faraday can fix the bridge to St. George. Why did we put all these clever mouse traps on our bridges? And why? Non li hanno resti... Eh, vero. Perché? Perché forse non è finita. Ipotizzo. C'è l'energetica. Penso che io possa levarmi la maschera senza subire conseguenze a questo punto. Da dove si entrava? Da qui! Dovrei... Dormire. Lol. Dovrei dormire in realtà. Stai buono. Ora la prendo. Se ce l'ho ancora. Ma cosa mi dice che non ce l'ho più? Cioè... Mi ha finito la joy e me la prendo in culo. Sì, ho finito. Parla... come vuoi fare, dai? Sì, ho finito. A portal? Of some kind? Um... Hmm... The... The... The going in the hole bit works. Theoretically, I can come out a second hole on the other side of the river. I just need a few particular mechanical pieces. That's how I'm getting out. How are you getting out? Oh, simple really. I just need to get to St. George, get a letter of transit, go to the parade and cross the Britannia Bridge without being arrested or shot full of joy by a doctor. Excellent. Here. You'll need this device. I'm not the cars that have the parts I need. Well, off with you. Ah, quindi devo prendere altre cose? Ok. Allora. Estrae i pezzi dalle macchine nel cortile di Farad. Estrae i pezzi da una macchina vicino alla stazione di... Luzzo. Ok, quindi devo andare a prendere... Sì, 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 bla, 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 bla. Quindi. Una cosa alla volta. Prima, quella più vicina. Out. I hope this isn't too loud. Ah, and where are you? Ah, come on! Oh, god. That sound. I should have said... How have you been all these years, Sally? You ran off into the night with nothing, and now you're some sort of brilliant chemist. How did you survive? I wish I could have helped you. It'd be nice to be friends again. Instead of all those dreadful things. You'd have to be crazy to be sane in this world. Ma do... Sgranate però le cose. Maschera. Ok, forse non serve. Non ho capito perché prima serviva, adesso no. Prima, alzi, tanto serve. Tanto so che qualcuno si arrabbierà. Acchera. Non ho capito. No ho capito. Ma che sei? Ok, manca l'ultimo Poi comunque ci fermeremo e leggeremo tutte le note che abbiamo trovato Lo tengo sempre per un pezzetto prestabilito, insomma, la parte in cui ci fermiamo a leggere Perché sennò farlo per ogni singola cosa sarebbe un po' un problema Ok, questo solo di notte si raccoglie Siamo a metà strada Ma qui era dove... no, non è lo stesso posto Lì c'era tipo il tavolino inquietante No? Ma abbiamo una mappa? Sì che abbiamo una mappa Eccola qui, no No, 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 no Era qui Ok Però è estremamente simile Magari dovrei sentire qui per un po' Questo mi serve però Queste piante sono quelle per creare le cure quindi sono a dir poco essenziali Ecco la mappa Ecco la mappa Quindi è lì dove ho portato Eh, i negozianti vendono oggetti utili Oh dear Oh, are you going to hurt us? I'm going to hurt you, Percy I promise But... We're brothers I'll look out for... We'll look out for each... We'll look out for each... We'll look out for each... Bloody hell I don't think I had a terribly king grasp on how many unpleasant things I've forgotten Porta le parti meccaniche At least we have our memories Right Stay where I can see you No one likes a lurker Qua Ok No girls allowed Top secret Ah ok Questo credo sia un negozio Qua citoy Qua cosa è in cui da lì Pico 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 Qua cosa è in cui da lui Qua cosa è la gente Cosa Che L'ueno Cosa Che Qui Poco Quasi Spaccateste. Cassina che è antisettico. Il balsamo io me lo compro. Ma proprio immediatamente. Compra. Non ho soldi. Ho 59 soldi. Questo costa 8. Ah, forse lui ha 59 soldi. No, lui ce l'ha a 250. I'll be back in a GIF. Oh, queste cuffie che sto indossando sono davvero scomode. Mi fanno male all'orecchio assurdo. Oh, questo. Oh, questo. Balsamo curativo I need you Dovrei anche dormire in realtà A presto Am I my brother's keeper? Am I? Am I my brother's keeper? Am I? Am I my brother's keeper? Am I? Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Am I? Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Am I? Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Am I? Am I brother's keeper? Am I? Potenzia, banco da lavoro, richiede kit di potenziamento meccanico. Bla 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 bla. No. Dove stava il letto in questa stanza, in questa casa? Mi ricordo se c'era un'altra, ecco. Posso dormire? Forse no. You can take your joy in me. No. Just rest in the feet. You can take your joy in me. What the hell was that? I hope she's alright. Maybe I should go check. Oh, for heaven's sake, she's gone. I can't believe she left without helping me. Well, I can. I just feel like a complete idiot trusting her. E qui ho le monete. Certo, sta cosa di doverne prendere uno alla volta è un po' ridicola, però. Nine times out of ten, if I turn it off and turn it back on again, that does the trick. Oh, for heaven's sake, all this, for that. Oh, for fuck's sake, for fucking fuck's sake. I can cross the bloody bridge to St. George, find Sally's house and go grovel. Okay. Collasso. Intanto io prugo ancora un po'. Okay, posso andare a me. You can take your joy in me. Cazzo. You can take your joy in me. Fai pace con Sally. Cioè che in realtà quindi non ci ha fregato, cioè la cosa che ci serviva c'era. o mi sbaglio. O mi sbaglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, no. I vestiti. I vestiti. Dio. Nervoso. C'è, lei mi sta picchiando e nessuno fa nulla? Serio? Ah, io mi faccio ammazzare, non me ne frega niente. Dai, dai. Forza. Dai, su, ammazzami. Nervoso. Ma poi nessuno te lo ricorda, capito? Non è che ti dicono, eh, devi mettere questi vestiti. No, niente. No, niente. No, niente. No, niente. Ok. No, niente. Ok. No. No, niente. No. se qualcuno mi attacca senza motivo io mi arrabbio tantissimo ok no ok no no there's the one that did it i know it was you bloody hell oh bloody hell 使 Avec Si non hating với Oh! Where they are? there they are! Stop them dying on the right track Great, Aymezzara Save them for the next barking Oh, she only takes ajan Who's like you too? Where? There? There? Non c'è nessuno che ha fatto questo Ah! Putt'em down, Ben! Faye did it! I know they did this! I know it was you! I can't keep doing this! There's blood all over them! They've got blood on their hands! That's an awful lot of bobbies! Look at them! They've got blood all over us! Oh, bloody hell! I hope I can convince the nice bobbies to let me fix their village! I can't fix the nice guy! I wish I kept in shape! You did it! You can't deny it! I knew it! You did it! I need to find a panchina where I can go. Hi, Miriam! Did you have only one? No, in reality, I don't have only one. I have only one other person. But okay. We're almost there. Anyway, as usual, I'm in control. This is a panchina. It's a panchina. I don't know. I can't do it! I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. You're a bunch of people that are here. I can't do it. Dovamo aspettare che la gente si rompa le scatole sentate Adesso Cambiamoci di abito No la gente è pazza Mangiamo qualcosa Ok Sì ma se non ho vestiti questi qua romperanno le scatole per sempre Si va di qua Perché non ci sono cose dove nascondersi Dio Potevo farlo io so scemo So scemo Se so scemo so scemo però ragazzi Colpa mia Dovrei essere meno scemo Comunque grazie a chi fa gli assunti in chat così non mi devo impazzire io I hope I can convince the nice bobbies to let me fix their bridge I'm sorry sir The bridge is not currently functioning properly Best come back in a few days I know I'm here to see what's wrong Are they sending random citizens To make repairs to vital transportation links then? Pull the other one No 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 Come back in a few days And the council workers will have this all sorted I need to be dressed like a worker in there If I'm not wearing a boiler suit People are liable to be cross with me Would you like this? Well That is quite kind of you Normally ours is a thankless profession Oh Dio mio Che due palle sta cosa È davvero insopportabile Lasciatemi Ah vabbè Mi sono curato a vuoto Queste pelle tende Ah vabbè C'è c'era Dai Ma se poi sono pure scemi perché non mi ammazzano Guarda mi guardano Dio Stop being so bloody selfish Stop being so bloody selfish Stop being so bloody selfish Comunque l'idea di corrompere i poliziotti con del whisky è figa Però se io lo faccio tu mi devi premiare Non mi puoi uccidere Perché l'ho fatto Non ha senso Just uh Christ I can barely keep my eyes open Allora con calma Facciamo tutto quello che ha il nostro potere per evitare di essere martoriati Non ha un abito quindi Ci facciamo l'abito Tranquillamente Ci mettiamo l'abito E ci mettiamo anche le scarpe Ok benissimo Dobbiamo mangiare quindi Mangiamo Dobbiamo bere Quindi vediamo Ok ci siamo Sì 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 lo so perché però È esagerata la reazione Cioè tu scassini una porta Ok la gente si arrabbia Io ho corrotto il poliziotto davanti alla porta In teoria Dove stare a posto Ok Ok No Io devo essere sottimendo come un lavoratore Allora Se non so C'è una tuta Sono dispiace di essere Ci succedendo indossa una tuta da lavoro come faccio a trovare la tuta da lavoro posso farla tuta da lavoro mi manca un set da cucito e un impermeabile stracciato non bisogna essere sondato come un lavoratore se non ho portato un sanzo si vediamo che stiamo vestendo la sama vabbè, blocchiamo qualcosa in un momento Sì, sì, sì. Questi li vediamo dopo Ok Devo indossare una tuta da lavoro Dove si trova la tuta da lavoro? Questa volta non ci provo nemmeno a scassinare la cosa Però posso provare a fare questo Non mi avete visto E' impossibile che adesso vi state lamentando Non ci provo blu skies lovely day for it ripremi la leva si adesso lo rifaccio quindi adesso in teoria dovrebbe essere fatto in teoria secondo me no no quindi passare il ponte potrei essere cross con me ragazzi proviamoci a fare sto vestito però ci serve della roba vado ad un punto esclamativo per vedere che cosa c'è vado ad un punto esclamativo per vedere che cosa c'è scott oh se si se ved Buongiorno a tutti i nostri spettatori. Vieni a guardare i ascolti. Siamo, possiamo cambiare il mondo. È un'altra parte. ok missione salvacondotto sono quelle che ho fatto comunque il fatto che io abbia spento e riacceso il coso fregando il gioco tra virgolette perché comunque ho fatto una cosa che in teoria non sarebbe dovuta accadere però comunque io non venga premiato per la mia iniziativa un po' mi fa storcere il naso ho fatto quello che bisognava fare però no ma è come se non l'avessi finito no allora ascolta ecco 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 Grazie. Venda sporca. Ah, che è? Che mi serviva? Ehm... Ok, mi serve. Ehm... set da cucito e 5 impermeabile stracciato. A trovarli. Ehm... 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 Perché c'è questa macchina qui? Fuga... Musoni... No, io mi faccio fatti mievo. Non voglio evitare inseguimenti di massa. Come... Wiacere oh... Oh entendeu ansi ospiti? Ehm... 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 un brandello di stoffa io sto a prendere cose però attenzione questo potrebbe essere interessante adesso l'ho uccido malissimo il tipo appena mi passa vicino lo aggredisco male sta pisciando lol perché non approfittare attraverso la porta senza pietà c'è il solito l'ho uccido bene a b ho tanto paura che soccioda un macchina Tu non parai la spia o no Sapevo che sarebbe successo questa cosa Lo sapevo da me Approfittiamoci dell'intelligenza artificiale Chi sarà mai questo tizio che legge il giornale Tranquillamente seduto su una poltrona in casa Ma che io? Ma che dici? No Quanto è fatta male sta cosa comunque Guarda guarda Andate Che c'ho da fare Grazie Che c'è Che c'è Ecco un set da cucito Ottimo Adesso manca soltanto la cosa dell'impermeabile Fatti zitta tu Qui stiamo lavorando Scassiniamo la scrivania Furgo la cassa forza Punto di scavo Ah ma che c'è Poi usa la bomba vomito LOL la testa di mucca Ogni reference a payday No payday scusate Com'è che si chiama Dai quel gioco Oddio Molto stupido Ma chi io Violazione di domicilio Ma che fici Mai successo Ok Mi manca impermeabile stracciato Guarda roba armadietti cassettiere Strillone Quindi cerchiamo un'altra casa Magari adesso siamo Stati un po' sfortunati Se lo saresti qui Ok Inutile Ciao Lovely weather Fido Io non Però non capisco Mi sembra molto strana sta cosa Che devo costruirlo io per forza Non mi danno l'opportunità di trovarlo in qualche modo E' pure strano che sto materiale non l'abbiamo mai trovato Guarda quello che si zompetta nella cacca qui Certo Senza alcun problema proprio guarda La penis is a choice Felicissimo Ragazzi qualcuno Che può vedere su internet dove si trovano questi pezzi di impermeabile Perché veramente sto Un po' perdendo la pazienza Anzi Proprio tuta da lavoro Vedete un attimino Perché non possiamo staccare tutta la serata Che c'è Che c'è Un deteccio? Mi piacerebbe prendere la mia piaccia. Grazie a te, grazie. See you at the pub. No. If I could take these all the time and I wouldn't... Lovely day for it. I hope the baker comes back from holiday soon. Ok. Qui già ci siamo passati. Stiamo lavorando, ok, ok, grazie. No, perché davvero la cosa strana è che io non ho trovato proprio mai nessuno. ... ... ... ... No, 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 no. Lasciamo un po' di bottiglie. Una decina abbastano, da fine non le ho mai usate. Una decina abbastano, da fine non le ho mai usate. Che poi il problema è che non trovo nemmeno case aperte. Perché tu dici entri frughi, lo farei. No, no, lo farei se solo ci fossero case aperte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. In città dove? Vabbè, quindi devo girare la città, sostanzialmente. Ma non c'è tipo un punto sulla mappa? C'è un punto esclamativo? Eh, dove sta? Forse al negozio, al negozio delle cianfrusaglie. Ah, ok. Ah, ok. vedo, ciao, grazie. Allora, la regia ci suggerisce di tornare in città e cercare un fizzio in un... e non... come che si dice un momento, proprio un incassoletto. Io adesso ho messo il punto su un negozio di cianfrusaglie, magari proviamo quello che ci serve. Ma io non... Però è fatto male sto gioco, ma perché non mi dà? Cioè, sono uscito fuori e non posso rientrare più. Ah, ah, sì, sai di cui sto parlando. Come sai... Lol. È fatto male, vedi? Sta zona che serve, vuota? Senza un perché non posso più rientrare se non dal posto da dove sono... uscito? Perché? Perché? Guarda, ma qua c'è un precipizio. Sicuro? Sì? Completamente inutile. Ok. Questa zona c'è tutto sto spiazzo di roba vuoto, così. In teoria dovrei anche muovere il buio, quindi ci stanno le cose che non posso girare il buio. Che rottura. Perché un gioco con una trama così bella, un'ambientazione, una storia così bella, deve essere rovinato da un gameplay così brutto? Stavo qua. Stavo qua. Stavo qua. Stavo qua. Stavo qua. Stavo qua. Completamente così a caso. Ho fatto belli dei dirigibili. Stavo qua. Ehm, voglio che ci svegliamo alle otto. No, aspetta, è cosa? No, non mi ha fatto più aspettare! Di quanto è fatto male? Aspetta, ora mi rinsegue il Gesù, eh? Dio, non mi ha visto, non mi ha visto. Sì, non mi ha visto, non mi ha visto. Sì, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. Sì, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. Ehi là! Mi dica! Sì, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. Sì, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. Eh, ma dovunque vado ci sono pliziotti, è buio. Questo significa che... Ci sto provando, ma t'ho richiamato anche. Eh, ti richiamo io, aspetta. Oh, dimmi. Sì. Ah, rettangolo, non quadrato. Sì, ok. Ok. Sì. Rombino bianco, ok. No, no, aspetta, quale rombino bianco? Fermati, non c'è nessun rombino bianco. Ah, ok. L'angolo... Ah, ok, è il tizio di prima. Questo, guarda, l'ho messo là il puntino, è lì? Sì. L'osco rivenditore Mercante losco? Che sia questo? Forse è questo? Eh, io non ce l'ho però, questo Boh, fammi provare ad andare dove ho trovato io Poi in caso vado qui Tanto ormai mi hanno visto Quindi forse non me ne prego There, there's a blood on his hands Get him Stay Sì, 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 sì. Ah, ok, ecco lui. Ok, l'ho trovato con l'arsena, non c'è nessuno di un tipo. Però io mi devo... devo far fermare la gente. Cosa? Ah, addio, addio, addio. E perché sto morendo? Oh, non c'è nessuno di questi posti privi di qualsiasi cosa, tipo questo. Che senti qua? Eh, lo so, nemmeno io. Nemmeno io lo so, bravo. No, qua muoio. Ok, non c'è nessuno di questi posti. No, non c'è nessuno di questi posti. No, non c'è nessuno di questi posti. No, non c'è nessuno di questi posti. Dio, che macello. Beh, è una cosa insopportabile questa. Proprio non la sopporto. Questa cosa che per qualsiasi cosa ti inseguono tutti per sempre. Per sempre. O muori o trovi una panchina. Se no, è per sempre. Questa cosa l'hanno vista. Non c'è nessuno di questi posti. Sopporto l'hanno vista. No, 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 no. Aspettiamo che i tizi se ne vadano. Forza abbiamo fatto. La musica assordante è finita. Quindi io adesso ho molta, molta calma. No! Dio mio! Non vedermi ti prego, non vedermi. Ti prego, vattene via, lasciami stare. No! 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 Sì, buon lavoro di squadra, decisamente. Libera completamente il tuo corpo dalla gioia. Collasso. Non mi piace sui tu. Salvo. Ma sicuramente sì, guarda, senza dubbio, bravo. No. Ma stai zitto. Dattene dentro. Ok, ora devo soltanto tornare lì. Io corro. Tanto ho salvato. Dovrei risparmare lì. 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 Cosa. Oh, mio Dio. Ciao. Cosa. Ero. Ero. Cosa con la sangra. No, 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 no. No, 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 no la verità elettricità è in e fuori. La briga è verità funzionata proprio, anche quando la potenza è inconsistente. Hai già visto il manual? Beh, signor, io lascio andare al briga senza più di più, signor. Beh, che si è vero. Lo lì. Vabbè, sì! Oddio, mia. Oddio, che cosa è successo? Che cosa è successo? non è nemmeno segnalata in qualche modo il dici se l'apri succede qualcosa sì ma se non posso riposarmi in nessun modo io non ho visto che fortuna cioè il coprifuoco io posso evitare lo settimo mi metto a dormire lo settimo mi posso vedere una panchina e aspettare però non me lo fa fare non me lo fa fare perché è un gioco stronzo no 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 oh no, se il gioco è così punitivo così cattivo non faccio lo stronzo a me piace a me piace prendo la gioia si ma comunque mi bloccano guarda guarda ora si incazzano tutti come delle vienere che è tutto bene magari un momento a passare ascolta la gioia si incazzano si incazzano si incazzano si incazzano si incazzano si incazzano oh 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 facciamo quel te mistico posso andarmene da questo posto orribile now for the last challenge Simon Says step on all the lit platforms fabulous Simon Says step forward through the gate and be sure to enjoy your day maiden the bridge to the parade there's just one more bridge and then I'm in the parade one more bridge after that and I'm finally out of Wellington Wells visto che vorrei evitare che tutta la città mi insegua di nuovo se fosse possibile penso che non sarà possibile sapete che cosa sta per succedere vero? io che corro per tutta la città come un pazzo poi io che trovo una panchina e mi siedo però non posso aspettare che passi il tempo non posso andare a dormire perché non ci sono letti non posso aspettare che passi il tempo perché le sedie sono cattive non posso aspettare che passi il tempo prima o poi la mattina arriverà e quando succederà io riderò non posso andare a dormire 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 non posso andare italiani che vuole ahaha Comunque arriviamo da Sally e poi stacchiamo Grazie a tutti Fa di me ciò che volete Sono qui immobile Che ce l'ha fatta? Cioè sono riusciti a non ammazzarli che erano 47 Magari adesso sarà il giorno Ossanael Ossanael Prendiamo una gioia Se le ho ancora Eccolo qua Beh, questo sembra davvero molto bene Prendiamo un po' 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 Oh dear Prendiamo un po' 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 partita ragazzi che dire che dire cioè io non so siamo passati da quanto è bello questo gioco a oddio odio questo gioco a oddio quanto è bello questo gioco nel giro di un quarto d'ora il punto è il gameplay rovina tutto rovina davvero tutto 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 no 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 io lo dico alla fine di ogni live perché è vero se fosse stato un libro se fosse stato un film sarebbe stato meglio sarebbe stato molto molto meglio perché la storia è figa i personaggi sono fighi sono davvero davvero fighi però poi non mi puoi fare un gioco così questo non è un gioco, è una tortura cioè io per andare avanti mi devo martellare veramente le palle ed è una cosa infattibile no vabbè ringrazio a tutti quelli che mi hanno seguito finora quelli che mi hanno aiutato lo faccio per voi lo faccio per me lo faccio perché questo gioco è bello in fondo ci voleva così poco a fare un gioco alla bioshock davvero la storia c'era tanto 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 c'era tanto 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 peccato il gameplay peccato 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 è troppo brutto è troppo fatto male per dire che sia un bel gioco ciao ragazzi buonanotte a tutti grazie per aver seguito la live fino a ora ti voglio bene ciao